Ciao, oggi andiamo a vedere un brano meraviglioso di The Division Bell che è Keep Talking, che inizia con questa chitarra molto sognante, con molto direi molto reverbero sulla scala del mi minore, ma poi continua con un loop molto carino di chitarra, sempre sul mi minore, con il delay sul terzinato puntato, che è un tempo molto carino, che sostanzialmente è lo stesso tempo che noi troviamo in Another Break in the Wall Part 1 del vecchio album The Wall del 79. Per cui andiamo a vedere come viene costruito questo riff con il delay e senza il delay, per capire un attimino bene il video. Andiamo! Grazie a tutti! Ok, andiamo a vedere allora come costruiamo questo riff facilmente. Questo riff è un riff che lavora su quattro note, che sono le note dell'accordo del mi minore. L'accordo del mi minore settima. E adesso stiamo sentendo questo riff senza il delay. Adesso andiamo ad aggiungere il delay e lo sentiremo suonato con questo ribattuto delle note. Il delay a 440 millisecondi, quindi come quello di Another Break in the Wall. E il gioco è fatto, basta essere molto precisi. D'altronde il delay è esattamente lo stesso, identico delay che noi usiamo per l'introduzione. D'altronde il delay è esattamente lo stesso, e poi tendiamo il delay. Tendiamo il delay. E poi vedremo anche il solo.